benvenuti o bentornati a questo nuovo episodio di def in qualche video precedente abbiamo parlato della definizione di natura se ve lo siete persi vi consiglio di andarlo a riprendere perché perché mi ha a me per primo e anche ad altri con cui poi ho discusso sorpreso il fatto che all'interno della definizione di natura non compaia nulla che faccia riferimento ad un luogo magari invece la prima impressione che noi abbiamo riguardo la natura o la prima definizione che potremmo provare a dare sarebbe il luogo in cui viviamo il luogo in cui si verificano le nostre le nostre vite in realtà abbiamo visto che natura è a un'accezione diversa quindi abbiamo visto che un'entità un principio generativo per i presocratici abbiamo visto che è una sostanza per aristotele abbiamo visto che è una grande macchina per newton e galilei abbiamo visto che è una parte della realtà contrapposta allo spirito per diltei eccetera eccetera non compare la voce luogo perché perché in realtà quando noi intendiamo natura con quella particolare accezione più o meno vedremo in realtà ci stiamo riferendo a l'ambiente l'ambiente naturale ora cosa intendiamo quindi con ambiente oggi parleremo proprio dell'ambiente intanto partiamo per l'appunto da la definizione base di ambiente ambiente viene definito l'insieme di quei fenomeni che o l'insieme di quelle condizioni meglio l'insieme di quello di quelle condizioni che influenzano la vita degli individui da un punto di vista fisico naturale biologico psicologico e via dicendo quindi è un insieme di condizioni ancora non compare il luogo il primo a parlarne questa volta non fu aristotele ma fu ipocrate quello che quantomeno restò più impresso nella storia del pensiero e lo studio da un punto di vista medico o comunque protomedico definendolo come ciò che influenza i temperamenti degli esseri umani o comunque dei viventi ovvero quel criterio quell'insieme di cose che va a modificare i temperamenti o con la teoria ipocratica della biologia umana i quattro umori eccetera eccetera facciamo un bel salto in avanti e l'ambiente viene ripreso dal sedicesimo al diciottesimo secolo come la spiegazione prevalente della differenza sociale e politica della varietà dei vari popoli cosa significa cerchiamo un po di inguadrare il periodo storico sedicesimo secolo quindi da poco la scoperta delle americhe la scoperta del nuovo continente quindi vengono scoperti anche nuovi paradigmi infatti poi questo periodo coincide con quella che viene chiamata la crisi della coscienza europea quindi modelli che si erano diciamo insaldati che si erano solidificati vengono a screpolarsi perché perché vengono confrontati con modelli del tutto nuovi mi viene in mente ad esempio quello che diverrà il quasi un tipico esempio che è quello del nativo americano felice o più avanti sarà anche il saggio cinese quindi questi modelli alternativi alla felicità che ad esempio si era descritta in in europa pensiamo anche alla crisi quindi quindicesimo sedicesimo secolo che ha anche il cristianesimo si scopre che esistono uomini felici che non pregano il dio cristiano com'è possibile se tutti devono essere cristiani per essere felici questi che esistono senza dio riescono ad essere felici chi li ha inventati chi li ha fatti perché ci riescono eccetera eccetera comunque un esempio questo ecco qui si cerca un motivo di questa differenza perché in un luogo così lontano e quindi già inizia un po a spuntare luogo gli uomini si sono evoluti in modo così diverso perché sono anche diversi da noi da un punto anche di vista fisico e culturale si trova risposta nell'ambiente un ambiente diverso produce culture differenti alcuni esempi di questo pensiero possiamo ritrovarli in monteschiere monteschiere già siamo più avanti siamo nel 1748 nel 1748 scrive che in base al clima alcune forme di governo possono essere quasi necessarie rispetto ad altre dice che nei climi torridi è quasi una conseguenza necessaria che ci sia la schiavitù il dispotismo mentre in climi più temperati può sussistere tanto la monarchia quanto la repubblica elvezius una decina 11 anni dopo 1759 sarà ancora più radicale e dirà che gli uomini che nascono uguali per natura quindi che sono tutti uguali secondo natura vengono poi a modificarsi secondo l'educazione quindi secondo l'ambiente in cui crescono o vengono educati ecco qui già vediamo che quasi ambiente da questo così definito e natura vanno un po a contrapporsi addirittura vanno un po a porsi sui lati opposti della scacchiera questo sarà quello che poi verrà chiamato determinismo ambientale che poi sarà sia un determinismo ambientale naturale e un determinismo ambientale sociale ora quello sociale prenderà maggiormente piede perché poi l'evoluzionismo darwiniano andava in un'altra direzione mentre il determinismo ambientale sociale diverrà diciamo predominante e si tenderà di capire i prodotti culturali e la differenza di questi prodotti culturali umani attraverso la differenza di ambiente sociale di ambiente politico di ambiente antropologico di ambiente sociale in una parola l'ultimo diciamo il più recente a aver per così dire dato un apporto significativo all'ambiente sarà Heidegger nel 1927 scriverà che l'ambiente nell'era, nell'età della tecnica che è l'era con cui Heidegger designa i nostri tempi i suoi e molti dicono ancora di più i nostri definirà l'ambiente come il fondo per l'impiego a differenza dei secoli precedenti in cui l'ambiente era un qualcosa di assestante pensiamo qui un po' anche alla natura in senso greco comunque all'ambiente in senso greco quindi come uno scenario che esiste di per sé diventa invece un qualcosa che esiste per uno scopo direi quasi un ambiente teleologico con uno scopo con un fine che è il fine dettato dalla tecnica esempio quello che un greco vedeva come un greco per dire un classico vedeva come una distesa di terreno adesso la tecnica definisce quell'ambiente come un un impianto agricolo vede in quell'appezzamento di terreno non un appezzamento di terreno e basta ma un appezzamento che può essere sfruttato tutta la questione dello sfruttamento dell'ambiente che nasce in questo periodo viene sfruttato per un impianto agricolo in un fiume non si vedrà più un fiume ma si vedrà un impianto idraulico una diga e via e via dicendo e via dicendo cerchiamo adesso di capire il perché a noi viene così spontaneo definirlo un luogo quindi assimilabile ad un'enorme stanza in cui la vita degli esseri umani si si svolge e in realtà più che un luogo è per l'appunto un insieme di condizioni perché perché di fatto tutti i luoghi sono insieme di condizioni noi definiamo i luoghi o specifichiamo i luoghi per capire quali condizioni influenzeranno quella situazione o gli individui in quella situazione se qualcuno vi chiama a telefono e voi dite sono in macchina non lo state dicendo per descrivere a quella persona la vostra macchina lo state dicendo per far capire a quella persona che siete in una situazione in cui non potete parlare perché quel luogo rappresenta un insieme di condizioni per cui dovete stare attenti per cui non dovete essere distratti per cui dovete seguire il codice della strada che vieta l'utilizzo del cellulare esempio allora ecco che l'ambientalismo da ambiente movimento che non non nasce in realtà con con l'ambiente ma inteso come lo intendiamo oggi è abbastanza moderno ecco l'ambientalismo non va a curare un ambiente come luogo quindi come i cartelli ad esempio dicono il luogo in cui viviamo non è semplicemente perché un luogo è basta ma il focus è da spostarsi sul in cui viviamo ovvero è il luogo che ci influenza è il luogo che ha influenza su di noi prova del nove prendiamo l'inquinamento ambientale non esiste un unico inquinamento ambientale ve ne sono diversi l'inquinamento dello dello spazio attorno al pianeta terra ok quindi con tutti i detriti spaziali tutti i pezzi di shuttle che navigano così tutti i vecchi satellite che circondano il nostro pianeta anche quello è un tipo di inquinamento è anche importante eccetera eccetera ma non ha lo stesso peso o quantomeno non è percepito alla pari dell'inquinamento ambientale terrestre ancora scendiamo diciamo sotto l'atmosfera l'inquinamento acustico che è comunque un tipo di inquinamento non è percepito con lo stesso peso e la stessa importanza dell'inquinamento di una falda acquifera perché? perché l'inquinamento di una falda acquifera ha molta più influenza o comunque un'influenza più diretta o anche un'influenza percepita in modo più preponderante rispetto che al rumore in un ambiente che pure è importantissimo quindi ecco che l'ambiente acquista tanta più importanza nel momento in cui ha maggior influenze sugli individui che lo abitano in questo senso che lo vivono anche che lo subiscono in questo in questo senso infatti l'ambientalismo ad esempio prima di essere un movimento di salvaguardia dell'ambiente naturale della terra eccetera eccetera ho un'ape vedi tu parli d'ambiente e qui ho le api che mi girano attorno perché siamo in un ambiente naturale ecco e l'ape mi ha fatto pure perdere il filo quindi resta calmo ama l'ambiente ama l'ambiente ama l'ambiente ama l'ambiente stavo dicendo l'ambientalismo prima di essere quello che ho detto prima era una teoria psicologica ovvero della psiche umana quanto è innato e quanto invece è ambientale quanto ovvero dipende dall'interno e quanto dall'esterno quindi l'ambientalismo era una posizione opposta all'innatismo per spiegare ecco i moti psichici degli esseri umani poi diventa un qualcosa di ambiente naturale inteso come luogo da salvaguardare perché ha influenza su di noi perché ecco un'altra un'altra cosa che secondo me è interessante a noi interessa fino a un certo punto o meglio senza dire a noi interessa poniamola così in molti potrebbero trovare irrilevante che sul nostro pianeta continuando di questo passo fra un tot di anni che sono meno del previsto o meno di quello che sono percepiti la vita non sia più possibile perché? perché da un punto di vista prettamente biologico o prettamente direi quasi naturale è già successo e sicuramente non è stata colpa dell'uomo penso alla grande glaciazione o ancora non è detto che un pianeta debba per forza essere favorevole alla vita pensiamo non lo so alla superficie di Marte in cui non è possibile la vita così come la intendiamo noi a noi interessa perché siamo noi sopra questo pianeta cioè è un pianeta che ospita noi e che ha influenza su di noi è influenza sugli altri esseri viventi è influenza sui futuri esseri umani sui nostri figli e via dicendo e via dicendo quindi ecco la questione ambientale è una questione importante e prende la sua importanza sul fatto che ha influenza su di noi questo potrebbe da alcuni essere aditato come egoistico ovvero se è un qualcosa a senso per noi allora lo si salvaguarda altrimenti altrimenti no forse forse però quando è a livello questo è un istinto di sopravvivenza un po' che in molti non sentono per quanto riguarda la questione ambientale però ogni essere vivente ha interesse che il suo ambiente sia il più possibile favorevole alla propria vita questo è un po' potrei definirlo istintivo per l'appunto è l'istinto di di sopravvivenza in questo si dice che non ricordo che lo diceva comunque nella natura selvaggia e primitiva non esistono buoni samaritani per dire quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate su cosa siete d'accordo e su cosa no ovviamente riguardo alla definizione lì c'è poco da fare sulla questione ambientale si può molto discutere perché è un argomento tuttora aperto e consigliate questo video a chi magari si interessa di questi discorsi e sicuramente gli tornerà utile utilizzare questa parola conoscendone il background quindi vi saluto vi rimando al prossimo video vi ricordo cosa che spesso dimentico di iscrivervi al canale dove trovate un sacco di altri contenuti di diverso tipo vi ricordo di mettere mi piace al video e vi ricordo vi dovrei ricordare anche qualcosa che al momento non sto ricordando io quindi tenete una spunta per i vari ed eventuali ci vediamo un sacco di Grazie.